Oggi è un'altra bellissima giornata, l'insegna della mostra da ceramica con vento collaterale che piace sempre a Castellamontesi e che fa conoscere i commercianti e i produttori. Sì, come di consueto, di tutti gli anni siamo sempre pronti su questa manifestazione collaterale alla mostra, quindi oggi la giornata ci ha accompagnati, diciamo così, perché pensavamo che la pioggia rovinasse tutto, però non è andata così bene, quindi tanta gente, tanta gente anche a visitare la mostra perché è una delle cose principali, quindi però diciamo che questa manifestazione attira molti cittadini castellamontesi. Sono numerose le bancarelle in giro per la città, posizionate? Le bancarelle sono i nostri commercianti di Castellamonte che volevo ringraziare in primis e che comunque ci sono prestati insieme a tutte le associazioni di Castellamonte che sono tutte presenti e attive, più che presenti, molto attive e volevo ringraziare anche loro. Tra le quali anche la nuova Proloco, una delle prime uscite? Ecco questo, volevo fare giusto questo appunto, abbiamo la nuova Proloco, sono ben contento che si riparte con un nuovo direttivo, adesso sicuramente partiranno col piede giusto per poter portare avanti le loro iniziative e le loro manifestazioni. Grazie a tutti!